la tecnologia è una cosa importante a ogni da primo pulsante a ogni chilometro salisci capilla e meno ragazze da copponestina a ogni chilometro salisci capilla copponestina a ogni chilometro salisci capilla impiegati li fanno giusci se passa una porta e sparano come i tre giovan se porto il bidone tiri se passano la porta e sparano come i tre giovan se porto il bidone tiri un po' potestà quella vittoria un po' potestà sull'ipugia parla a l'udum gamadita stammadina che facevo cantando balle a l'udum gamadita stammadina facevo cantando balle a tutti io un po' potestà Pazzini, dove damma che lo faccio non per la bocca, un scaglio palomino di un video, gioco. Damma che lo faccio non per la bocca, un scaglio palomino di un video, gioco. Questa è un po' Giovanni per qua. Quella sera che serra tarata, abbas fu serro da serruccianata. Questa è un po' Giovanni per la bocca, un scaglio palomino, gioco. La larga palla, a nara corre un compallo Questa coppina cos'è? La mattina so' iuto a casa di vino Pi' roba polmonata a casa di Giannino Giannino a me, ma di teppucì Pi' roba vecchia valla a casa di vino A me, ma di teppucì Pi' roba vecchia valla a casa di vino Questa coppina cos'è da niente Ma Pasqualina seleziona di cliente Se vuoi cliente Sono poco a fa spesa Giovanna e Guiglia da prologo Frucchi di Elia Sono poco a fa spesa Giovanna e Guiglia da prologo Gioanna e Guiglia da prologo Andreamu Bani Questa coppina cos'è? Gioanna si è pura ingazzata, dopo il compagno si è toccata, ma dita voglio, ma state ferma se non se ne esce ne tu. La madralla è finita, dopo l'anato.